No, 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 chi taglia? Tu stai zitto, tu sei il portaluce Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video Oggi facciamo lo spacchettamento dei miei regali di Natale Che sono sul tavolo, uno l'ho già spacchettato perché mi è venuto in mente dopo di fare lo spacchettamento No, no, andiamo direttamente allo spacchettamento, bene, finito Partiamo con i regali già aperti Questo Questo Le calze che mi ha regalato Viola Finalmente posso fare la persona divertente con le calze divertenti Questa è l'unica battuta decente perché l'ho già detta prima, quindi ce l'ho pensato Basta, è la terza volta A questo punto passiamo ai regali nuovi Possiamo notare la qualità del pacchetto Chiaramente questo è un prodotto Apple, quindi la Apple è una società che... Vabbè Fa i pacchetti belli Basta dire, basta dire No, la mia gara, c'è i pacchetti, la zia? Un attimo, stiamo facendo un video di unboxing Ops Stiamo spacchettando il regalo di papà Sono degli occhiali, ok, sì, in effetti io gli occhiali ce li ho, quindi li rimettiamo dentro Questo sarà per me, associazione pieghe Ma come penso? Ah sì, no, questo non lo ricordo, l'ho comprato io Questo è qui, un pacchetto più semplice, il fiocchetto era carino, però adesso siamo subito bloccati e non lo voglio, quindi passo allo strumento definitivo Zack Secondo me è un bel pacco di coca Diallo, ma tu stai registrando? Sì Ah, bravo, bravo Altrimenti che video unboxing è se non unboxing? Più che altro se non è un video, perché l'unboxing lo sto facendo Oddio, sembra un libro Aspetta, che cos'è questa cosa? Ragazzi, voi lo sapete? Questo è il libro che ho comprato l'altro giorno Quindi, poiché questo, so che cos'è, questo chiaramente non so che cos'è, perché non me lo sono comprato l'altro giorno In buona parte Possiamo notare che questo libro è inceltico, perché non capisco neanche una parola Qualcuno mi ha suggerito la regia che l'ha girato E alla fine questo è il regalo di mamma Che ha ritrovato nella sua libreria D'accordo, perché il consumismo, secondo me Tu smetti di giocare con le luci Mi sono rotto le palle, mi stanno malendo le gambe Tieni, fatelo tu Non faccio l'altro Vabbè, addio, ciao amichini